Siamo contenti della bella esperienza che ci è stato permesso di fare e per questo sicuramente dobbiamo ringraziare il CONI, la Federazione Italiana Vela e il gruppo sportivo dell'aeronautica militare per il quale corriamo e siamo soddisfatte della nostra settimana perché è stata una regata lunga molto molto impegnativa e molto faticosa sotto tutti gli aspetti e abbiamo avuto sicuramente degli alti e bassi ma siamo soddisfatte di come abbiamo gestito l'intera settimana.